Si è svolta stamattina presso l'Aula Consiliare del Comune di Piedimonte Matese alla prevista conferenza dei servizi. Sul tavolo dei lavori la riorganizzazione della sanità matesina sul territorio con l'istituzione delle nuove aree funzionali, ne saranno previste tre nel Matese. In realtà saranno delle strutture dove sarà possibile avere le prime cure previste dalla nuova legge al fine di snellire il carico di lavoro degli ospedali e per andare incontro all'utenza in aree disagiate. Presente oltre al sindaco di Piedimonte Matese di Lorenzo che insieme al direttore del distretto ha indetto l'incontro, il direttore generale dell'Asel Caserta Russo, l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri e il consigliere regionale Gennaro Olivero. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it